Viaggiare nel tempo non è un superpotere, è una disabilità. Ecco che c'è che non va in me. Posso aiutarla? Harry! Scusami, io non so... Claire. Quindi noi ci conosciamo? Sì. Il destino ci ha fatti incontrare, ma... nell'ordine sbagliato. Hai degli hobby? Sono la tua futura moglie. Ci sono tre cose in cui me la cavo bene. Scappare, combattere e rubare. Il pericolo non è la cosa peggiore. Il Natale è molto peggio. Ci sono giorni dove ritorna più spesso. Non posso controllarlo. Detesto essere dove lei non è. Io mi muovo sempre e lei non può seguirmi. Questa sono io che cambia il futuro. Ho provato a cambiarlo, credimi. Non si può. Mamma! Salve. Chi diavolo sei tu? Ha chiesto miglia? Oh, Dio mio. Amo Harry più di quanto potrei mai amare chiunque altro. Perciò adesso dov'è? Non mi è rimasto molto. Nessuno ha molto. Credo che ora andrò. No, non adesso. Io ti amo. Perché l'amore aumenta con l'assenza?